Finalmente questa vittoria? Grazie, sì, una grande vittoria per me, per tutta la squadra. Dopo ieri che non è andata bene per me, una giornata no, però oggi mi sono rifatto la grande, facendo una grandissima volata oggi. Come si è successo questo finale? Un finale nervoso con l'attaccare TV Show? Sì, un finale nervoso, Sagan attaccato sull'ultima salita, setta dall'arrivo, però io sono rimasto lì davanti con i miei compagni, Izaghir e Gasparotto e dopo nel finale ha attaccato Vichaud, però i miei compagni sono stati pronti a chiudere e io sono partito lungo, uguale come lo scorso anno la Paris-Nizia. Che è la vittoria di questa vittoria? Questa vittoria vale molto per me perché vuol dire che ho lavorato bene in vista del Tour de France, anche se non mi sento al top della mia condizione vuol dire che sono sulla strada giusta. Sì, con un training molto impegnativo con Nibali, prima della gara. Sì, abbiamo fatto un bel allenamento in attitudine al Teide, davvero duro per me perché è tutta salita arrivare in cima, però ci siamo allenati bene e al Tour saremo competitivi. Grazie mille, complimenti ancora. Siedi qua. No, 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 dentro.